ciao 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 allora domani sera che è venerdì 25 febbraio appuntamento imperdibile c'è il torneo duo su fortnite serve privati in duo e sarò in collaborazione con brigata bislacca allora qua c'è il canale di brigata bislacca il canale di brigata quindi mi raccomando andatelo già seguire basta seguirlo su youtube.com slash c slash brigata bislacca comunque vi metterò vi metterò il link in descrizione già andatevi a iscrivere al suo canale qua vedete quanto fa su fortnite lui fa delle live su fortnite fai serve fa ma porta anche altri giochi gunsmith per esempio qua vedete qua escape from tarkov allora minecraft insomma porta vari giochi quindi andiamo un po' sui video fa anche dei contest vedete insomma ha portato anche qualcosa allo infinite insomma ragazzi seguitelo seguitelo facciamo andare questi 925 iscritti al più presto facciamolo arrivare mille iscritti dai 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 comunque il torneo in duo funzionerà così si andrà dalle 9 alla mezzanotte e chi farà più vittorie entro la mezzanotte sarà il duo vincente quindi vi aspettiamo numerosi domani alle 9 le live si saranno in contemporanea le live in contemporanea la mia sul mio canale youtube video game e la sua su brigata bislacca seguiteci di qui di là saltate di qui di là saltate di su di là guardateci contemporaneamente fate come volete è l'importante che ci siete e portate nuovi amici a giocare perché sarà un torneo soprattutto divertente passeremo una bella serata in compagnia e non pensate ah ma io sono scarso sono vinco cioè non pensate solo ai premi perché sarà il divertimento stare compagnia insieme io poi facendo duo in server con lui imparerò a conoscerlo anche meglio un po' così così scherzeremo in compagnia cos'altro dire beh comunque i premi li diciamo nel caso vinciate ci saranno due premi del valore da 800 v bucks 800 v bucks scusate v bucks e niente potrete scegliere quello che volete vi regaleremo dal negozio di fortnite e niente detto questo vi mi raccomando domani sera che è venerdì sera alle ore 9 ci troviamo detto questo faccio un salutone grandissimo ciao ciao a brigata bislacca a faz cyborg insomma saluto saluto il canale brigata bislacca ti auguro di crescere sempre di più ti auguro di crescere sempre di più come iscritti e comunque insomma se partecipate a questo torneo non ci piacerebbe che foste iscritti ad entrambi i canali al mio canale youtube svideogame e al canale di brigata bislacca bene penso di avere detto tutto ma comunque se ci sono altre cose da dirvi tipo non bisogna metterlo anonimo non insomma queste cose ve le diciamo in live per ora questo è tutto continuate a seguire svideogame che sono io non è brutto parlare in terza persona quindi seguitemi e seguite brigata bislacca ciao ciao e ci si vede presto in live ciao